Sono invalido civile a cento per cento, attenzione, non è che parliamo di uno così, eh? Ma dove stassi l'invalidità? In due cassetti, in due cummati, anche sotto le panna. Non dico il certificato dove sta, dove sta l'invalidità, non vede niente? E mica sono invalido. No, mio cognato lavora al comune, sta così con l'assessore, mi ha fatto avere l'invalidità a cento per cento. Oh Gesù, quindi siete un truffatore. E non mi conviene a fare pure le truffe, sono a casa e mi arriva la pensione, mi metto a favore. Sì, hai ragione, si metto a favore. Non sono portato per il lavoro. Perché non vuoi risolvere? Allora, il cassonetto è vuoto perché i sacchetti intorno ci stanno fuori. Anche voi avete un senso civico. Perché io ho capito qual è il problema, che non vogliono spendere i soldi per i lampiù. No. Perché tu vicino al cassonetto, devi metterlo a lampiù. Perché il cassonetto è scuro la notte, non si vede. All'oristo è che sono quinto piano. Quando butto il sacchetto della moneta, non lo vedo e va fuori. E capito no? È tutto così, eh? Ma che buttate i sacchetti dalla finestra? Tutte le notti, non mi attengo mai dalla casa. Ma non ci fa! Perché non si fa? Dovete scendere! Cinque piani e scala qui! Eh certo! Io sono invalido ai civili al cento per cento, faccio i cinque ma chi se ne capisce niente?